Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono TonyGamer17 Ragazzi sono contentissimo, ho una bella piccilla e vi auguro anche un buon Natale Allora, ringrazio anche lo staff, ringrazio Steam, veramente, veramente Sono contentissimo perché ho appena comprato, ho appena shoppato la MasterChef Collection di Halo, quindi stasera mi ritroverò davanti tutti i sei capitoli della saga A giocarci perché aspettavo questo momento da parecchio, quindi 24 euro spesi bene per 6-7 giochi Non so se c'è un altro DLC all'interno, non so se c'è un altro contenuto Però sono strafelice e come potete vedere, avendo una connessione orribile Orribile, veramente, orribile Ho avviato il download alle 9.36 di questa mattina E mi mancano all'incirca 2 ore per scaricare altri 3 giga e 400 megabyte Direi di sì Quindi spero tanto che finisca subito perché non vedo l'ora Quindi come ho detto vi auguro delle buone feste Mi raccomando, se non hai ancora giocato a Halo Comprati direttamente la Halo MasterChef Collection Perché sono arrivati i saldi Quindi invece di buttare 40 euro Ne butti 24, 20 euro, 20 euro su Instant Gaming Io ho fatto subito comprando su Steam perché noi in Italia Su Instant Gaming ho visto, quindi devo pagare anche l'IVA E alla fine dovevo cacciare, non ricordo, 24-25 euro Quindi ho fatto direttamente shoppando qua sopra e l'ho comprato Dai Quindi, grazie tante per questa visione Sempre vi auguro un buon Natale Allora, Natale arriva tra 7 ore Sì, 7 ore Sono le 5 e 10 6 ore e 50 Tra 6 ore e 50 è Natale Quindi per quelli che lo stanno guardando a gennaio, a febbraio Sì, è Natale Quindi ciao a tutti Ciao